Marco Podracian, vittoria contro Molfetta, forse avete sofferto meno del previsto, una partita che è andata via molto tranquilla. Sì, praticamente abbiamo iniziato molto bene la partita, abbiamo tenuto sempre la prima palla fino all'ultima, il nostro gioco che era oggi abbastanza alto, soprattutto dopo che arriviamo dopo una bella vittoria da Modena, siamo tenuti anche di tenere tre punti in vantaggio della classifica. Comunque è bello, rimangono solo due partite, bisogna continuare sempre così e entrare in play-off nel modo migliore. Oggi avevi un compagno di reparto, Marco Vitelli, al suo esorio, giocato un'ottima partita. Sì, oggi ho fatto una bella partita perché Cesto è rimasto a casa con la febbre alta, quindi complimenti a squadra, complimenti al nostro giovane che oggi ha fatto una buona presentazione in campo e come ho detto prima, bisogna ancora pedalare e andare sempre così. Dopo la sconfitta in Coppa Italia la squadra è cresciuta anche dal punto di vista del gioco. La vittoria di Modena quanto vi ha dato in termini di autostima, Marco? L'ha dato molto, mi ricordo bene anche la vittoria in Polonia che era forse la nostra migliore presentazione nel campo, a parte quella ultima partita a Modena. Siamo cresciuti tantissimo, soprattutto nel punto di vista morale che serviva tanto a questa squadra, sapevamo tutti che abbiamo una bella rossa quest'anno, che ce l'abbiamo anche buoni scambi, come abbiamo dimostrato anche stasera, solo che la squadra ci voleva qualcosa. Adesso abbiamo avuto meno male quello e la squadra sta migliorando sempre. Si gioca ogni tre giorni, non c'è tempo davvero per rifiadare? Sì, non c'è tempo per riposare, dobbiamo dimenticare il primo possibile questa bella vittoria stasera. Come ho detto prima, mancano solo due partite per chiudere il regular season, vogliamo rimanere nel primo posto e in mezzo a quelle due partite c'è anche una partita importante della Champions. Quindi, come ho detto prima, con tre belle vittorie credo che entriamo nel play-off, nel modo migliore.